C'è io spendo tipo un patrimonio all'anno per questo Voi vi rendete conto cosa ci avete? Voi vi rendete conto? Lo sapete? Oh, ecco E pensate che tu... L'altro giorno uno mi ha fatto un piatto Non potrei dirla questa cosa Non potrei dirla ma ve la dico Per chi se ne frega Uno mi ha fatto un piatto, un vitello tonnato con la bottarga Ci sta, ci sta, ci sta, ci sta Ma con la bottarga Questa è bottarga Ci si è bottarga Questa è bottarga Quella che ci ha messo lui era Un trito di pane grattugiato e uova di messi a venire